Per la prima volta dopo tre mesi si registrano zero contagi in Campania. L'unità di crisi della regione comunica che nella giornata di ieri sono stati esaminati complessivamente 2.485 tamponi e quindi il totale complessivo è di 212.486 con un totale complessivo di positivi in Campania di 4.822. I deceduti sono 420, i guariti 3.572, in provincia di Napoli 2.625 positivi, in provincia di Salerno 687, in quella di Avellino 547, in provincia di Caserta 462, termina la provincia di Benevento con 209. È una tappa importante di lungo cammino di prevenzione e controllo territoriale sviluppato in questi mesi, ha detto il governatore Vincenzo De Luca. È un passo significativo ma occorre tenere, come sempre, la guardia alta. Partiremo nei prossimi giorni con uno screening sui docenti delle commissioni degli esami di maturità per dare serenità alle famiglie. È una prima iniziativa che sarà completata nell'ambito del programma Campania Sicura nei mesi di agosto e settembre, con lo screening che riguarderà tutto il personale scolastico docente e non docente. Ringraziamo per questo primo importante momento di grande soddisfazione tutti i nostri concittadini per la collaborazione e il grande senso di responsabilità dimostrato. È con loro tutto il personale medico e sanitario della nostra regione. Facciamo in modo che questo risultato non venga messo in discussione da comportamenti non responsabili.